un piccolo rasa di spagnolo verde in brinato tendente all'avorio non sale neanche super usato io ecco lo maschio purtroppo ho fatto io un danno rompendo l'anello come non si deve anellare guardatelo piccolo standard posizione gabbia singola guardate il movimento uno dei maschi migliori che ho come riproduttori anno 2018 non è potuto andare alla mostra a causa del dito e sta ancora finendo la muta piccolino cresta guardate che movimenti che bello uno dei migliori canadini che abbiamo fatto ottimo ceppo proveniente da la scuola di piovino un campione razza spagnola spettacolare